Si è svolta questa mattina a Pescara, nel Palazzo della Provincia, la presentazione del Vademecum Cyberbullismo e Web Reputation, istruzioni per l'uso, realizzato dal Corecom Abruzzo per aiutare studenti, genitori e insegnanti a tutelare la propria reputazione online e navigare in rete in modo consapevole. È rivolto agli abruzzesi, soprattutto con una particolare attenzione ai minori che hanno la necessità di conoscere bene lo strumento della rete, di internet, delle nuove tecnologie. Sono strumenti molto utili, molto positivi, ma vanno conosciuti perché ci sono i pericoli. Io ho definito le tre parole chiave cultura, conoscenza e consapevolezza. Se si percorre questa strada della cultura, della conoscenza e della consapevolezza, i ragazzi saranno in grado di non cadere nei rischi, nelle trappole di internet. Questo strumento, un Vademecum fruibile, ma scientifico, fatto quindi da psicologi, professionisti, giornalisti e esperti di Web Reputation, è lo strumento necessario che verrà distribuito a tutti gli abruzzesi in 20.000 copie. Noi ci troviamo di fronte oggi a soggetti che sono nativi digitali e che quindi, mentre da una parte hanno una grande capacità e abilità nell'utilizzare i devices e gli strumenti, dall'altra parte però hanno anche l'inconsapevolezza o in qualche misura anche la mancanza di consapevolezza rispetto a quelli che sono i rischi ai quali possono andare incontro. Questo è un manuale utilissimo che verrà veicolato attraverso un quotidiano locale. è stato fortemente evoluto dal Corecom Bruzzo, dal Presidente Lucci, dai componenti Michela Di Rolfi e Ottaviano Gentile e costituisce uno dei primi proprio opuscoli che sono stati realizzati dai Corecom e questa è un'iniziativa lodevole ed importante.